Come va? Come va ragazzi? Ben ritrovati a tutti, un saluto alle amiche e amici di Milanello, vi evito come sempre lasciare un bel like qui sotto giornata di partita, mi raccomando fatelo numerosissimi, ogni like è un bel forza Milan e iscrivetevi qui se non avete ancora fatto. Chi non si iscrive ti fa Spezia o ti fa Inter o ti fa Napoli, insomma vedete voi, mi raccomando iscrivetevi anche perché siamo a 84.982 iscritti, quindi oggi io sono anche un po' scaramantico, bisogna tagliare prima della partita gli 85.000 iscritti, puntando poi ai 100.000. Un paio di notizie prima di entrare nel vivo di un video in cui cercherò di contenermi perché sono molto arrabbiato, mi sento preso in giro, il Milan stesso è furioso, intanto un megnana che ha postato una foto appunto di un allenamento, palestra, gli auguriamo davvero di rientrare presto per il Milan, lui poi vuole farsi il mondiale, lo sappiamo, e poi ieri un gol di Lorenzo Colombo, il secondo in campionato dopo quello che aveva realizzato con il Napoli, quindi siamo già comunque a due gol, non ha giocato sempre, come esordio in Serie A insomma non male, sperando possa esplodere il ragazzo nostro, un ragazzo di Milanello e quando segna uno dei nostri siamo contenti, soprattutto se poi a livelli alti come la Serie A. Stasera questa gara, prima ci sarà Atalanta-Napoli, vediamo come va, è chiaro che se il Napoli vince da un segnale clamoroso pur senza Varascheglia, se non vince siamo tutti contenti, tocca a noi fare il nostro dovere stasera alle 20.45 contro lo Spezia e se si fa il nostro dovere poi comunque andrà, sarà un weekend positivo perché avremo allungato o recuperato da qualcuno, perché no da tutte se tutte le altre pareggiano. Ecco, al Milan si augurano che ci finiscano tutte in parità, Atalanta-Napoli, Juve-Inter e Roma-Lazio, perché così guadagni due punti. Sfutte se tu fai il tuo dovere contro il Milan, l'anno scorso il fischio dell'arbitro Serre, insomma ogni tanto ce lo sogniamo di notte, fortunatamente non era stato determinante, arbitro oggi Fabri e con insomma la scelta di far giocare Krunic e non Pobega in mezzo al campo, secondo me ci sta, lui poi ha fatto anche un gol importante, è un giocatore di esperienza, ecco io magari non lo vedevo bene con Tonali, con Ben Nasser secondo me lui può rendere di più, augurandomi poi di poter vedere con continuità insomma la formazione titolare, oggi sulla carta, ripeto sulla carta, è la gara più semplice rispetto a queste che ci separano dalla chiusura di questo campionato di apertura, perché poi ci sarà Cremonese, martedì ore 20.45 in trasferta e poi domenica la Fiorentina in casa. Oggi bisogna portare a casa il risultato, Dest purtroppo non c'è, anche qui caso un po' singolare, perché lui ha fatto una mezz'ora con il Monza, anzi 45 minuti con il Monza, è uscito all'intervallo, quella dopo se non ricordo male l'ha saltata, poi quella dopo c'era, però non ha giocato, e adesso sta fuori ancora, insomma sembrava affaticamente, evidentemente qualcosa di più di un affaticamento, ed è un peccato perché secondo me in queste tre partite lui servirebbe. Fosse stato bene oggi avrebbe giocato dall'inizio con Kalulu e Tomori in mezzo, invece giocherà Gabbia. Vediamo, se è un giocatore che è condizionato un po' da questi problemi fisici, io lo vedevo in crescita sinceramente. Ma ora peserò le parole, cambio registro, sono davvero arrabbiato per non dire l'altra parola, perché ci stavano seguendo magari anche dei bambini, e non è bello. Sono Furiboldo, Minan che si sente presi in giro, e io come credo tutti voi, ci sentiamo presi per i fondelli, per non dire quell'altra parola, ecco. Avrebbe sicuramente un effetto diverso, però voglio mantenere sempre un linguaggio consono, rispetto anche agli interlocutori che non per forza di cose sono grandi, o che potrebbero essere infastiditi da determinate espressioni. Quindi rimaniamo nella civiltà, ma credo che abbia fatto capire il mio sentimento. Se è anche il vostro, mettete un like, e poi vi farò una specie di sondaggi in questo video. Che cosa è successo? Perché oggi c'è un ulteriore colpo di scena. Ieri, non sono riuscito a fare il video perché ero impegnato appunto al lavoro, quando sembrava sul più bello tutto ben delineato verso finalmente la luce, quando la scorsa settimana il sindaco Sala aveva detto, credo proprio che si farà, insomma, aveva fatto capire che lo stadio ci sarebbe fatto, ieri dal nulla, dal nulla, ha detto, per chi non lo sapesse, in consiglio comunale andremo tra un annetto, annetto, neanche un anno, annetto, con pressapochismo, con sufficienza, con, secondo me, strafotenza, non soltanto nel contenuto, ma anche nella forma. Adesso, purtroppo, questa storia dello stadio è talmente tribolata e il mio intendimento è fare un passo alla volta. Quindi, un passo alla volta, tribolata. Poi se andiamo a leggere, dice, il prossimo passo è quello di ricevere il giorno 18 novembre il risultato del dibattito pubblico. Dal dibattito pubblico noi dovremo formalmente rispondere o con l'accettazione delle osservazioni che sono state fatte, oppure respingere argomentando, dopodiché la giunta delibererà. A quel punto le squadre avranno il compito, da un lato, di costruire il progetto esecutivo e, dall'altro, quello di spiegare meglio come Sassi Roverebbe smantellato, a meno che troviamo altri interessi sulla strada. In un anno le opinioni cambiano. Tradotto, lui dice, ci vuole tempo, un passo alla volta, non facciamo le cose di fretta, ma sono passati tre o quattro anni. Lui, il fascicolo, stadio, ce l'ha sulla scrivania da tre o quattro anni e ci dice oggi, dopo che tutto sembrava delineato, facciamo un passo alla volta, non bisogna avere fretta, forse tra un annetto. E dice, però le cose cambiano, magari ci arrivano altre offerte. Non so tra un annetto che cosa diremo. Dieci giorni fa, Antonello per l'Inter, Scaroni per il Binan, avevano avuto un incontro sul tema, anche con la stampa, e avevano fatto capire che loro si aspettavano di avere l'autorizzazione a inizio anno, quindi tra un paio di mesi, non tra dodici. E tra dodici, Sala dice, ieri, non è detto che io vi dica sì, magari vi dico no. Capite che c'è la volontà scientifica di rimandare, la volontà scientifica di non decidere. A me non interessa, destra, sinistra, su, giù, quello che volete. I discorsi politici li lascio tranquillamente fuori. Lungi da me entrarci. Ma in questo caso è un sindaco che non vuole decidere. È evidente. Poi scopriamo ieri che ci sono nove consiglieri della Giunta che sono pronti a votare contro il progetto Stadio. Quindi per non farlo passare. Ieri poi il sottosegretario Sgarbi interviene e dice che è pronto a bloccare tutto. Sgarbi dice che non è possibile, non lo accetterò, non lo permetterò mai. È una struttura del 26, ignorando che poi aveva avuto delle modifiche, quindi non è un bene che ha più di 70 anni. Quindi si può intervenire, questo era già stato acclarato. Per questo poi è intervenuto Salvini, poi Berlusconi. Era una questione in cui la politica locale si è messa di traverso. Purtroppo oggi entra in gioco la politica a livello nazionale e quando diventa una questione politica di questo tipo capite che è un caos totale e non c'è nulla di buono. Oggi il sindaco Sala torna sul tema e dice tutte queste esternazioni, di chi abbiamo citato, non aiutano le squadre. Le squadre, cioè le esternazioni non aiutano le squadre. Lui invece le aiuta. Quando il progetto esecutivo sarà definito si andrà in consiglio. Passerà del tempo. Perché? Perché deve passare del tempo? Rimane il fatto che ieri Salvini ha detto che si rischia di andare a Sesso San Giovanni perché il comune ha perso tempo. Il comune non ha perso un giorno di tempo. Ci abbiamo messo due anni a trovare l'accordo con le squadre sulle volumetrie. Poi arrivano sgarbi Berlusconi. Che i milanesi e i tifosi sappiano chi è contrario allo stadio e chi sta lavorando per farlo. Cioè, lui vuol far passare il concetto che lui è favorevole. Ma abbiamo tutti l'anello al naso? Cioè, ci vuole prendere in giro così pubblicamente quando dice una cosa un giorno, il giorno dopo è diverso, il giorno dopo è ancora? A targhe alterne siamo? A proposito di comune di Milano? Io mi sento letteralmente preso per i fondelli. E non ne posso più di questa storia. Perché settimana scorsa ci avevo illuso dicendo no, credo si farà adesso apposto, abbatteremo San Siro. La settimana dopo cambia. E poi dà la colpa agli altri. Questa è una cosa inaccettabile. Non ne posso più. Ieri il Milan era furioso rispetto a questa ulteriore esternazione. E io dico una cosa. La dico, l'avevo già auspicata. Capisco che si possa aspettare Milano per una questione di cubature, più di cubature di valore commerciale. perché se hai un negozio a Milano vale di più del negozio a Sesto San Giovanni. E così tutto l'indotto, l'atto commerciale, eccetera, eccetera. Perché non c'è soltanto lo stadio, c'è tutto quello che sta attorno dal punto di vista commerciale. Però vi chiedo, mi chiedo e chiedo alla C.Milan è meglio un Sesto San Giovanni domani o un Milano forse tra 6-7 anni? Io ho fatto la domanda in cui evidentemente c'è anche la risposta. Io non ho dubbi che si debba andare domani a Sesto San Giovanni. Poi ho saputo che Sala crede che quello di Sesto San Giovanni da parte di Milano Inter sia un blef. E forse facendosi forza su questo che lo ritiene un blef si perde tutti i tempi che vuole. La sensazione è che lui non voglia essere il sindaco che ha permesso di buttare giù San Siro. Però lo riesce dalla medaglia che rischia di essere il sindaco che rende San Siro una zona faticente. Perché se Milano Inter vanno via San Siro diventa un costo. Non un punto di indroito ma un punto di uscita di tanti soldi. E non si capisce che verrebbe riqualificata tutta la zona o aumenterebbe è una bella zona ma aumenterebbe tutto il valore ci sarebbero attività commerciali ci sarebbero lavori ci sarebbe un abbellimento di tutta la zona. Dall'altra parte capisco anche che chi vive lì può viverlo come un disagio ci mancherebbe altro. Però faccio presente che tutti i top club a livello europeo hanno uno stadio. A Tirana hanno costruito uno stadio in tre anni. Qui siamo a Milano ragazzi Milano la città più avanguardia dal punto di vista commerciale. E da quanti anni se ne parla? E ora siamo ancora però forse tra un anno quindi adesso ragazzi guardiamoci negli occhi che cosa facciamo? aspettiamo un anno ancora dopo che ne abbiamo aspettati tre con il rischio che tra un anno ci dica eh no vogliamo vedere altre cose altri sei mesi oppure dice no non ti do l'autorizzazione e noi abbiamo perso quanti anni? Quattro o cinque. Sinceramente la prima cosa che dobbiamo fare è attivare un iter in cui c'è questo dibattito pubblico che è necessario. Assesso San Giovanni andiamo nei fatti andiamo in concreto e poi prendiamola questa scelta. io sono furibondo perché è una questione fondamentale quando si parla con i vertici del Milan di prima di Elio ora di Redbird il punto fondamentale è lo stadio ragazzi stadio 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 senza lo stadio lo step il triplo step non si fa capite perché non è il voler avere casa nostra quello è bello ma è voler avere anche la possibilità di entrare in un universo diverso rispetto a quello italiano con lo stadio sono mal contati 70-80 milioni di euro ogni anno almeno se si vuole competere a livello di Champions ad altissimi livelli bisogna avere lo stadio è fondamentale e io dico una cosa e se siete d'accordo con me lasciate un like se non siete d'accordo invece non mettete il like così faccio la differenza tra chi ha visto il video e chi ha messo il like io dico Sesto San Giovanni meglio ancora senza l'Inter che sembra avere comunque dei problemi a livello economico finanziario poi altri dicono di no andiamo subito a Sesto San Giovanni facciamo questo stadio noi e basta punto 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 lasciamolo lì San Siro come monumento che è destinato poi a perdere pezzi purtroppo lasciamo Sala lì con la sua volontà di non decidere decidiamo noi per lui ce ne andiamo Sesto San Giovanni subito se siete d'accordo con me ragazzi lasciate un like qui sotto voglio quantare i like in ogni caso iscrivetevi qui se non avete ancora fatto mi raccomando attivate la campanella chi non si iscrive tifa la seconda squadra di Milano aggiungo che ora pensiamo ovviamente alla partita però un video del genere purtroppo era doveroso farlo vi mando un abbraccio forza Milano oggi più che mai domani ancora di più ci vediamo dopo partita dai ragazzi grazie